mister bonita pochi giorni dall'inizio del world grand prix qual è la situazione dell'italia ma una situazione di work in progress stiamo lavorando da tre settimane con questo gruppo si è aggiunta all'ultimo momento silla che farà parte delle 16 che partono per questo lungo torneo abbiamo voglia di giocare abbiamo voglia di metterci di fronte alle squadre importanti di tutto il pianeta e credo che sarà una bellissima esperienza per alcune di loro che affrontano il grand prix per la prima volta qual è la condizione fisica del gruppo e anche delle singole pensiamo per esempio luce a bosetti rientrata pochi giorni fa nel test match di padova contro la big ten conference ma la situazione fisica è in generale buona abbiamo qualche piccola situazione sotto controllo ma niente di particolare quindi direi che sono abbastanza soddisfatto di come fisicamente affronteremo il grand prix venerdì 3 luglio ad ancara all'esordio contro le campionesse del mondo degli stati uniti il modo migliore per rompere il ghiaccio il modo migliore ricordando che al mondiale abbiamo vinto una partita bellissima giocando una grande pallavolo e vogliamo provare ad avvicinarci a quel livello che non sarà semplice nella prima partita ma neanche loro sono quelle che poi hanno vinto il mondiale quindi un bel rientro perché per noi sono sensazioni positive giocare contro gli stati uniti per ultimo l'italia manca dal podio del world grand prix dal 2010 quale può essere qual è l'obiettivo per questo world grand prix ne abbiamo parlato ne parleremo un pochino più approfonditamente quando capiremo cosa cosa saranno le altre squadre perché alcune di loro alcune di queste squadre non saranno al completo però in generale il nostro obiettivo è quello di arrivare alla final six siamo certi che possiamo farcela perché indipendentemente ripeto da quello che che metteranno in campo le altre nazionali noi abbiamo una forza che ci consente di pensare che la final six sia la nostra portata grazie a tutti grazie a tutti